Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Il ministro dello sviluppo Guidi ha firmato il decreto di riconoscimento di area di crisi complessa per il Molise. Un provvedimento straordinario che mirerà soprattutto alla ripresa occupazionale, ha spiegato il presidente della regione Frattura in conferenza stampa, alla fine della quale non sono mancate frecciate per Iorio e Di Giacomo. Sentiamo. Ai sensi della legge il Molise non aveva i requisiti per ottenere il riconoscimento dell'area di crisi complessa, eppure il risultato è stato comunque ottenuto e portato a casa. Il decreto è stato firmato dal ministro Guidi. Ora, quello che aspetta la regione, ha detto il presidente Frattura in conferenza stampa, sono nove mesi di intenso lavoro per individuare le priorità del Molise, dopo consultazione con tutti i partner possibili e le proposte da inserire nell'accordo di programma da presentare al governo. Inizia qui quindi per la regione con il riconoscimento dell'area di crisi complessa, la possibilità di costruire gli strumenti che garantiranno la ripartenza, con risorse che andranno ad aggiungersi a quelle già disponibili, ha detto Frattura, ringraziando tutti quelli che hanno lavorato per il raggiungimento del risultato, dagli assessori all'onorevole Venitelli, ai senatori Leva e Ruta. È chiaro che l'obiettivo principale è l'occupazione. Chiediamo il riconoscimento dell'area di crisi complessa, proprio per costruire strumenti che ci accompagnino nella ricollocazione dei circa 15.000 lavoratori su 96.000, che è la forza lavoro complessivo della nostra regione, oggi purtroppo accompagnati dagli ammortizzatori sociali. Politiche attive e non più politiche passive, politiche attive che ci danno la possibilità di valorizzare al meglio il Job Act, politiche attive che ci danno al meglio la possibilità di valorizzare al meglio le risorse del fondo sociale, politiche attive che ci danno al meglio la possibilità di risolvere i problemi delle crisi, che purtroppo non questo governo, ma evidentemente la miopia, con la quale in particolar modo i settori partecipati avevano visto sovresposta la regione, bruciando decine e decine di milioni di euro, oggi si trasformano in un'opportunità per la ricollocazione di quei lavoratori. Alla fine della conferenza stampa qualche frecciata nei confronti dell'ex presidente Michele Iorio e del senatore Ulisse Di Giacomo. Il fallito se la prende con il curatore fallimentare. Chi è causa di questo disastro è sicuramente Michele Iorio, a quale va tutto il mio ringraziamento. Guardate, ogni volta che Michele Iorio parla, noi portiamo a casa risultati straordinari. Del senatore Di Giacomo, ripeto, ancora non ho capito che cosa svolge nella sua mission di senatore. E dopo la notizia non sono mancate le reazioni politiche al riconoscimento dell'area di crisi. Duro a fondo di Ulisse Di Giacomo, che parla di certificazione del fallimento dell'attuale classe politica, lunedì conferenza stampa dei sindacati. Tonino Danese. Un significativo passo in avanti, così il parlamentare del PD Danilo Leva definisce il riconoscimento dell'area di crisi. Adesso però aggiunge che bisognerà stipulare l'accordo di programma per declinare le singole misure con relative risorse. Certo è, continua Leva, che non ci saranno finanziamenti a prescindere da progetti concreti di sviluppo industriale. Adesso tocca mettere insieme tutte le parti sociali coinvolte per costruire un'ipotesi di rilancio solida e possibile. I sindacati rivendicano il ruolo avuto per ottenere questo riconoscimento, il lavoro svolto, la marcia per il lavoro, le mobilitazioni. La segretaria regionale della Wiltecla Boccardo propone il 7 agosto quale giornata dell'orgoglio molisano, poi però guarda avanti e richiama chi di dovere ha responsabilità precisa e gli obiettivi sono sviluppo vero, nessuna indulgenza alla politica assistenziale, no inutili carrozzoni con vecchi arnesi dismessi dai partiti, immediata attivazione di una cabina di regia regionale per seguire gestione e sviluppi di questo riconoscimento. Per la CGL è risultato importante, ma per invertire la situazione grave va fatto di più. Due le condizioni da realizzare, per il segretario Sandro Del Fattore, destinare al Sud risorse ordinarie, riportandolo nell'agenda politica nazionale. E la Regione deve avviare una corretta ed efficace programmazione delle risorse comunitarie previste fino al 2020, scegliendo le priorità legate al territorio e avviando un confronto pubblico che finora non c'è stato. Duro il senatore del nuovo centro-destra, Ulisse Di Giacomo, anche il governo Renzi ha dovuto prendere atto della catastrofe economica e sociale provocata da fratture dalla sua giunta, riconoscendo lo stato di crisi, dice, francamente, stupiscono le dichiarazioni di soddisfazione rilasciate da alcuni esponenti di sinistra, afferma come se a questa regione fossero stati riconosciuti dei meriti. La firma del ministro continua il senatore, certifica invece il fallimento di questa classe politica, la presa d'atto definitiva dei danni provocati e dell'incapacità del governo locale a risolvere i problemi. Di Giacomo cita la GAM, l'ITR, lo zuccherificio, l'edilizia, la sanità e i dati del rapporto Svimez. A settembre governo e Parlamento varieranno il programma di interventi a sostegno del Sud per decine di miliardi di euro di fondi europei non spesi dalle regioni. Un piano che rimarca Di Giacomo dovrà vedere come protagonista l'agenzia adesso dedicata e che dovrà togliere alle regioni che si sono dimostrate incapaci come il Molise, dice ancora la possibilità di spesa e il Molise rischia di restare con il suo pannicello caldo dell'area di crisi. Mi sembra, conclude Di Giacomo, si tratti più di area di crisi. Il ministero dell'economia e delle finanze ha firmato il decreto che accorda la cassa integrazione straordinaria in deroga per la categoria dei pescatori per il 2014. A comunicarlo è la parlamentare Laura Venitelli, componente della Commissione alla Camera per il gruppo PD e responsabile nazionale del settore pesca e acquacoltura del Partito Democratico. Cambiamo argomento, aumentano i casi di violenza sulle donne anche in Molise, ma ci sono anche associazioni a cui ci si può rivolgere per avere tutela legale e supporto psicologico. Valentina Nero. Gli episodi di violenza, ormai sempre più numerosi, contro le donne nel nostro territorio regionale richiamano fortemente la nostra attenzione sulla tutela dei diritti delle vittime di violenza di genere. In effetti è un territorio caldo il nostro. Questo spesso non appare, resta sotto la superficie perché molte donne hanno paura di denunciare o dopo che querelano, ritirano le querele e noi che siamo una sorta di termometro sociale e raccogliamo quindi le varie lamentere, le varie denunce, però vediamo che questo fenomeno è molto presente. In questa civiltà dove si insegna l'eguaglianza accade che ogni anno siano segnalate al numero verde e antiabusi o oltre 40.000 telefonate di denuncia. Violenze che non avvengono a centinaia di chilometri da noi ma magari nella casa accanto o dietro una porta. Stando infatti alla pubblicazione dei dati regionali dal Molise sono arrivate ben 90 segnalazioni, troppe se paragonate a quelle del Trentino Alto Adige 140 ma un sassolino nello stagno rispetto ai casi eccessivi della Lombardia 2931 o della Campania 2455. Sono fenomeni che riguardano tanto i maltrattamenti in famiglia quanto gli atti persecutori e personalmente ne eseguo tanti e tutti simili e noto come purtroppo è palese che le misure previste dal nostro codice e dall'ordinamento teoricamente sono efficaci ma nella realtà no, falliscono. Forse col tempo e con una mirata opera di sensibilizzazione qualcosa cambierà e potremmo finalmente dire che tutti gli uomini inteso come esseri umani sono effettivamente uguali. È facile che l'indagato, la persona violenta, la persona soprattutto rifiutata spesso faccia di tutto per braccare, attenzionare, avvicinarsi alla vittima, alla preda. Cambiamo di nuovo argomento andiamo ora a Frosolone dove è stata inaugurata la mostra a mercato nazionale delle forbici e dei coltelli. Sergio Di Vincenzo È partita con le note della fanfara dei carabinieri l'edizione 2015 della mostra a mercato nazionale delle forbici e dei coltelli di scena come sempre a Frosolone. A cent'anni dal primo conflitto mondiale la banda musicale dell'arma ha voluto rendere omaggio alle vittime della guerra richiamando l'attenzione di tantissime persone poi tutti nel centro storico per il rituale taglio del nastro e per la visita alle botteghe artigiane in mostra un patrimonio che le istituzioni dovrebbero tutelare e valorizzare in maniera adeguata ha detto il sindaco Cardegna. Noi vogliamo ogni anno ricordare alle istituzioni e al mondo economico che c'è una nicchia di artigianato che va salvaguardata va sostenuta perché non è vero che l'artigianato è scomparso per la standardizzazione industriale ci sono prodotti di qualità che non è solo l'artigianato delle forbici e dei coltelli tipico di Frosolone ma anche l'artigianato della moda del design eccetera quindi è un artigianato di qualità come l'oreficeria che ha una sua valenza di mercato che va sostenuta soprattutto in questo territorio. E in questa direzione una risposta potrebbe arrivare anche dalle misure programmate per lo sviluppo delle aree rurali ha detto l'assessore regionale Facciolla. Noi abbiamo una possibilità fantastica con il prossimo piano di sviluppo rurale uno degli obiettivi che l'Europa ha imposto agli stati membri è quello di fare azioni di inclusione sociale per inclusione sociale si intende mettere in rete le comunità rurali periferiche e cercare di farle ragionare con il resto del mondo farle colloquiare con il resto del mondo che è industriale o urbanizzato e l'azione di inclusione sociale consente nelle nostre aree rurali quindi anche a Frosolone di poter fare investimento in attività che non sono solo strettamente agricole. Anche quest'anno a Frosolone si stanno vedendo tanti visitatori oltre che espositori arrivano da tutta Italia per mettere in mostra la loro arte e la loro passione. Sono venuto l'anno scorso per la prima volta è stato molto interessante molto bello un'accoglienza stupenda da parte del paese per cui sono tornato molto volentieri. Ma questa è soprattutto l'occasione per mettere in mostra le qualità degli artigiani frosolonesi si tramandano questa arte da generazioni e oggi grazie a prodotti di assoluta qualità riescono a imporsi anche all'estero. Noi abbiamo messo anima e corpo per raggiungere questi obiettivi perché non è facile partire da Frosolone un piccolo paesino di montagna anche isolato purtroppo dobbiamo dire e arrivare a vendere in Algeria in Libano in Romania Bulgaria Un successo che cresce ogni anno sempre di più quello del Richa Folk Festival Piazza Umberto I stracolma di gente nella seconda serata della rassegna che prosegue fino a domani stasera intanto il concerto dei Patrios Giuseppe Carriera L'inizio è affidato a loro ai bambini che portano in rassegna le bandiere delle nazioni partecipanti e rappresentate in questa undicesima edizione della Richa Folk Festival poi un puzzle opera del laboratorio artistico diretto dal maestro Antonio Finelli tante tessere di un mosaico che gode di successo perché frutto delle cose e dei sentimenti autentici accoglienza condivisione e collaborazione che è l'anima del folklore e della filosofia che anima anche il gruppo folk Moffa di Riccia l'organizzazione di intera popolazione che in questi giorni accoglie culture e tradizioni da tutto il mondo come ad esempio dal Brasile facciamo un omaggio al samba e raccontiamo la storia del samba quindi partiamo dal samba di Roda Gaffiera e il samba del Brasile il più conosciuto in Georgia costumi e strumenti particolari ma un grande spirito di amicizia e di condivisione che traspare già fuori dal palco questo nostro gruppo folkloristico complesso nazionale Georgian folklore fondato alle 1984 anni da medicina all'università citata di Blissi voglio ringraziarvi organizzatori di questo bellissimo festival vostra bella città ospitalità molto buonissima un popolo molto bello a rappresentare a rappresentare l'Italia il gruppo La Teglia di San Polo Matese una piccola comunità del Molise in cui ognuno sa suonare una zampogna o fa parte del gruppo folk anche sindaco e vice sindaco ma sul palco nessuna carica istituzionale tutti condividono l'amore per la tradizione anche i più giovani lo spirito del nostro gruppo è quello di di portare avanti le tradizioni il nostro passato perché riteniamo che il folklore sono proprio le radici di un popolo quindi tanto più sono profonde tanto più si riuscirà a crescere a tramandare ai ragazzi quello che è il nostro passato per permettere loro di crescere nel loro futuro Riccia Folk prosegue fino a domani sempre apprezzatissima la parte gastronomica con piatti tradizionali come le polpette di tonno e il baccalà oltre ai gelati ispirati ai piatti tradizionali della tavola di San Giuseppe e prosegue Lady Lang Jazz Festival la Capracotta è stata proposta un'altra serata di grande musica vediamo ha fatto tappa a Capracotta con un'altra serata di grande musica il ricco itinerario musicale del Lady Lang Jazz Festival sul palco il quintetto di Daniele Cordisco chitarrista molisano che già da tempo ha trovato uno spazio importante nel panorama giattistico nazionale al fianco di musicisti del calibro di Fabrizio Bosso e Greg Hutchinson o con gli swing mini-ex di Renzo Arbore accompagnato dal potente sassofonista americano Michael Rosen e da Francesco Lento uno dei trombettisti più brillanti della nuova generazione Cordisco ha confermato tutte le sue straordinarie qualità con una prestazione scintillante tra classici della musica jazz e brani di sua composizione seguito da un pubblico attento e numeroso nella fresca cornice serale di una stupenda Capracotta ha aperto la serata il quartetto del chitarrista Paolo Mignogna altra giovane realtà di un jazz molisano che anche grazie a manifestazioni come Lady Lang sta crescendo a vista d'occhio alla tromba Paolo Petrecca giovane talento dal quale gli appassionati si aspettano grandi cose da Capracotta il festival dedicato al musicista originario di Monteroduni si rimette in viaggio la prossima tappa è prevista lunedì sera a Esernia in piazza Celestino V si esibirà Kenny Barron Intanto a Larino è tutto pronto per la terza edizione della Notte della Carrese e della Fiore di Carta l'evento che valorizza le tradizioni e l'identità del territorio si svolgerà domani nel centro storico a partire dalle 18 numerose le iniziative in programma sentiamo Fabrizio Occhionero La Notte della Carrese e del Fiore di Carta si conferma un punto di riferimento delle manifestazioni estive organizzate in Basso Molise promossa dal comune di Larino in collaborazione con la Proloco non rappresenta una semplice rievocazione degli eventi più importanti del territorio ma una vera e propria chermesse dedicata alle tradizioni alla cultura e al folclore della regione ciò che appartiene al DNA del molisano della religiosità dei molisani che sono le carresi quindi in primis la carrese di Larino la carrese di San Pardo e poi tutte le altre carresi dei comuni del circondario a partire dalla carrese di Porto Cannone di San Martino e di Ururi che si caratterizzano per una corsa sportiva fino alle carresi degli altri comuni tipo Santa Croce Monte Cilfone Palata che più similmente a quella di Larino hanno un aspetto processionale e di sfilata per i paesi avremo quindi 18 comunità molisane L'arte del fiore di carta che abbellisce i carri di San Pardo rivive così in una notte di agosto grazie alle sapienti mani delle donne larinesi vere e proprie maestre Produrranno dei fiori di carta da distribuire ai turisti in modo da far conoscere questo particolare aspetto delle tradizioni larinesi e eventualmente insegnare anche a chi volesse imparare l'ABC della lavorazione della carta per realizzare dei fiori Un evento sensoriale che domenica 9 agosto offre un percorso di emozioni da non perdere che accompagnerà i visitatori fino all'alba A partire dalle ore 18 con la sfilata dei carri per il centro storico e poi alle 21 a seguire con una serie di eventi avremo gruppi musicali proiezioni di film sulle carresi mostre di pittori locali e infine concluderà la serata un concerto di Gio Bavota sosia di Elvis peraltro di origine molisana A Castelbuttaccio un giorno di vino dove il circolo neo-illuminista Donna Olimpia Frangipane proporrà show cooking per corsi sensoriali degustazioni e il tutto abbinato al legame indissolubile cibo vino all'insegna della qualità Un giorno di vino un viaggio alla riscoperta dei saperi e dei sapori delle eccellenze enologiche e gastronomiche del Molise e le usanze della civiltà rurale che caratterizzano il nostro territorio per cultura e tradizione è questo l'obiettivo che si pone l'associazione culturale circolo neo-illuminista Donna Olimpia Frangipane organizzatrice dell'evento che si terrà a Castelbottaccio domani 9 agosto fondamentale per la buona riuscita dell'evento giunto ormai alla decima edizione la collaborazione degli abitanti di Castelbottaccio come ha sottolineato ai nostri microfoni il sindaco Francesco Delisio importantissima perché tutti quelli che abitano nel borgo antico mettono in evidenza fuori dalle porte delle loro cantine tutte quegli utensili che storicamente erano dei vecchi contadini l'obiettivo principale è quello di far vivere ai partecipanti un'esperienza che va al di là della semplice degustazione dei vini e dei prodotti tipici proponendo uno show cooking interattivo con lo chef Maurizio Santilli e diversi giochi sensoriali che riguardano l'abbinamento indissolubile cibo-vino il tutto seguendo leitmotiv la qualità come ci ha spiegato la dottoressa Carmela Corso la qualità intesa come cura del dettaglio come cura del particolare per cui a 360 gradi sicuramente le aziende che vengono sono delle aziende non di grande dimensione e comunque se anche avessero grandi numeri però sono delle aziende che hanno conservato una loro artigianalità l'obiettivo è quello di dare visibilità a chi si sforza nel fare un discorso a 360 gradi di valorizzazione di territorio valorizzazione culturale sociale attraverso i loro prodotti l'appuntamento è per domani a Castelbottaccio dalle 17.30 alle 24 il 30 agosto al vino molisano sarà dedicato uno stand alla rassegna del Sydney Italian Wine and Food Festival la manifestazione più importante che si svolge in Australia manifestazione in cui vengono rappresentate le eccellenze italiane un contesto nel quale Leo Di Bernardo direttore della Movini Import ha pensato di promuovere un pezzo di Molise la sua terra proponendo al pubblico la Tintilia Catabo di San Martino in Pensilis l'appuntamento richiama oltre 2000 visitatori che ha detto Di Bernardo potranno scoprire il vino molisano che già si è ritagliato un posto di tutto rispetto nel mercato australiano un evento che ha fatto la storia delle tradizioni popolari del Molise ed è la Sagra delle Tolle di Montorio Nefrentani che quest'anno ha raggiunto la cinquantesima edizione oggi e domani appuntamento in paese per gustare il Gran Turco un evento che attraversa la storia di un territorio e conferma la sua identità in termini di accoglienza la Sagra delle Tolle è giunta alla sua cinquantesima edizione organizzata e curata da sempre dall'associazione turistica Promontorio ormai da mezzo secolo ogni anno l'iniziativa si svolge per ricordare questo antico cereale che in passato costituiva l'alimento principale delle comunità della zona in particolare quelle più povere la spiga di Granone o Gran Turco ancora grano d'India perché importato in Europa da Cristoforo Colombo poteva essere cotta sulla brace lessata o trasformata in farina come polenta o ancora schiacciata a forma di pizza e poi cotta sotto la coppa nel focolare fin dall'inizio la Sagra delle Tolle si svolge nella seconda domenica di agosto in modo da non poter concidere né con il ferragosto né con il giorno dedicato a San Donato molto venerato dai locali e festeggiato nella vicina comunità di Rotello il sabato di vigilia è dedicato alla raccolta nei campi sempre più rari dove tale prodotto è ancora seminato inserata nella piazza del paese si segue la sfogliatura delle tolle che vengono poi messe a bollire per molte ore secondo l'antica tradizione in grandi paioli per poi essere infine distribuite e degustate è l'occasione per balli popolari spettacoli musicali ed esibizioni di orchestrine e di canti in tanti riempiono con grande entusiasmo Montorio nei Frentani dove durante l'estate la popolazione arriva a triplicare un invito da sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica rivolto a tutti per condividere il senso di una sagra che si lega alla storia dell'intero territorio e consolida la sua identità parliamo ora di teatro popolare oggi chiusura della manifestazione a Campobasso che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico così come la mostra fotografica per i premi ai vincitori sentiamo Carmen Gioia presidente dell'associazione il nostro quartiere San Giovanni un mese di teatro qui al parco dove avete portato in scena con il festival nazionale del teatro popolare della tradizione il dialetto molisano e non solo avete offerto uno spettacolo all'aperto e vi siete aperti anche alle altre regioni possiamo proprio dirlo sì le commedie sono state molto variegate con la partecipazione delle compagnie delle regioni limitrofe che con un pubblico sempre più crescente sempre più attento anche a rispettare le scene ma chi va in scena ma nel contempo anche dico a giudicare a fine serata con i commenti a riguardo che cosa possiamo dire un bilancio positivo e a noi è questo che ci conforta e ci dà l'infa vitale per andare avanti il calore del pubblico il calore della gente e anche la gioia delle compagnie a salire su quel palcoscenico Lino D'Ambrosio direttore artistico anche quest'anno della diciannovesima edizione del festival nazionale del teatro popolare e della tradizione tracciamo allora a questo punto anche un bilancio di tutte le compagnie che avete portato in scena qui al Parco San Giovanni Sì direi che sì diciannovesima edizione ben diciannovese anni che seguo questa presentazione è sempre con grande entusiasmo anzi l'entusiasmo nel corso degli anni è aumentato perché c'è stato sempre più un aumento di pubblico costante in questi anni e noi siamo particolarmente contenti perché questo vuol dire che sempre più gente ha voglia di teatro e ha voglia di teatro amatoriale non soltanto il teatro diciamo cosiddetto importante ma anche il teatro amatoriale quello fatto dalle piccole compagnie dalle compagnie che portano avanti sempre questo discorso per cui è nato questo festival cioè la promozione del dialetto dei dialetti e anche il confronto tra i nostri dialetti locali e quelli di altre regioni per cui il bilancio quest'anno è sempre come dire positivo appuntamento con il gran concerto lirico domani sera alle 21 alla sala Baranelli del comune di Bonefro si esibiranno giovani musicisti molissani che eseguiranno aree tra le più celebri opere del repertorio lirico italiano e straniero accompagnate al pianoforte dal maestro concertatore Loredana Venditti la serata è organizzata in collaborazione con l'associazione New Opera International ed è patrocinata dal comune e dalla regione la direzione artistica è curata dal maestro Maurizio Scarfeo e qui si conclude anche quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie a tutti i nostri zinni grazie a tutti i nostri zinni